Il coordinamento nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà discuterà direttamente con i rappresentanti nazionali delle forze politiche a partire dal PD, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, PDC, Verdi, PSI. Il tavolo delle trattative con i democratici sulle prossime elezioni regionali dunque è sospeso. A dirlo da Roma lo stesso coordinamento nazionale della formazione guidata da Nichi Vendola. Le prossime elezioni regionali affermano sono un banco di prova della politica nazionale. Il PD rischia di essere subalterno all'Udc, rinuncia persino allo strumento sul quale si è fondato le primarie per aderire alle logiche di palazzo del suo nuovo alleato. Il riferimento a Boccia è fatto chiaramente dal governatore Vendola. Io penso che Francesco Boccia, se gode del consenso di alcune importanti forze politiche, non avrà alcuna difficoltà a scendere in campo nella competizione delle primarie e penso che in questo modo possa offrire un contributo a superare una crisi molto importante, molto grave del centro-sinistra pugliese. Quando c'è caos, confusione e crisi è buona regola tornare a un metodo che pulisce, che rappresenta una specie di bonifica delle cose cattive, della politica cattiva. Per Sinistra Ecologia e Libertà il PD sta materialmente distruggendo l'idea di un'alternativa di governo alla destra. In questo frangente l'esperienza pugliese è fondamentale. La candidatura di Nichi Vendola è la candidatura della buona politica contro quella degli intrighi e il mandato popolare che si rinnova contro l'ostilità non solo ad un leader della sinistra, afferma il coordinamento nazionale, ma al proprio stesso popolo.